La storica struttura del mercato coperto di Trieste, dono alle venderigole di Sara Davis, inaugurato nel 1936, è pronto a entrare a pieno titolo nel nuovo millennio, dopo decenni di declino, scarsa frequentazione e poche idee per la rivitalizzazione. Il progetto anticipato dal sindaco di piazza Telequattro, basato su un interessamento privato che al momento rimane top secret, è quello di trasformarlo in una moderna struttura multifunzionale, dedita al commercio e alla ristorazione veloce, con alti standard di qualità e una valorizzazione degli spazi interni, ben evidenziata da questi primi rendering che vi forniamo in anteprima. Il mercato coperto è una bellissima struttura, cerchiamo adesso di rivitalizzarla, cerchiamo di portare all'interno un attrattore, che potrebbe essere un centro commerciale o qualcosa di simile, con tutto attorno, caffeterie, una piccola Italy, tanto per capirci anche se ovviamente non è Italy, però al centro di quel largo barriera diventerà qualcosa di veramente molto interessante e grandi opportunità anche di lavoro. Insomma una struttura solare gestita ad altissima professionalità per attirare clientela e far rivivere uno spazio al momento con poco appeal. Sì è difficile, abbiamo a suo tempo messo la scala mobile eccetera, ma non vanno al piano superiore, serve una caffetteria, sapete cosa serve? Grande professionalità e questi che stanno lavorando adesso sono i grossi e grandi professionisti. Ad interessare però non è solo l'interno, ma anche l'esterno, il tetto in particolare, che vanta come particolare spunto architettonico, quella rampa elicoidale fra il primo e il secondo piano, che in tempi antichi doveva servire per la circolazione dei carri utili al trasporto merci. Certo c'è anche l'idea di una terrazza Martini sul tetto, per cui le idee sono molte, adesso le stiamo sviluppando, sicuramente non sarà quello che è adesso un luogo così poco frequentato. Un po' l'attrattore anche per i turisti, che uscirebbero così dalla mera area del centro storico, con piazza Goldoni che sin adora il punto limite d'approdo della gran parte dei vacanzieri, creando così occasioni ed affari anche per tutto il resto dell'area di Largo Barriera e Vie Limitrofe. Abbiamo ristrutturato Viale 20 settembre, abbiamo ristrutturato Piazza Goldoni, abbiamo ristrutturato Largo Barriera, adesso è arrivato il momento del mercato coperto.